Lo spartitraffico, potenziale killer, ha già provocato diversi incidenti e sono tanti i cittadini che ci hanno chiamato per testimoniare la pericolosità di questa isola di cemento, sistemata proprio in mezzo alla trafficatissima strada Postumia, pochi metri prima della svolta per Monticello Conteotto. E proprio il sindaco del piccolo centro vicentino, Claudio Beninca, a riprova che il problema c'è ed è sentito, dopo aver visto i nostri servizi, ha voluto intervenire affiancando gli automobilisti e i residenti a cui abbiamo dato voce, esposando la proposta di Rete Veneta di eliminare o almeno modificare e segnalare meglio questo spartitraffico pericolosissimo. Ho visto il servizio di Rete Veneta e sono stato anche contattato da alcuni miei cittadini circa la problematica dell'incrocio della provinciale Postumia in uscita da Stradone Nicolosi. In merito sì, è una situazione nota, anche direi abbastanza problematica. Si sono verificati i vari incidenti, chiaramente è una permeabilità del territorio di Monticello Conteotto che attraverso la strada qualifica o meno anche il territorio stesso. Quindi io mi sento coinvolto nella situazione. Io sicuramente mi farò tramite con l'amministrazione di Vicenza e anche con la provincia in quelle che saranno le mie possibilità per portare e sollevare la problematica, che in parte già l'avevo sollevata in una riunione provinciale che abbiamo fatto, per vedere se è possibile trovare una soluzione più organica e anche più complessa, sicuramente dal punto di vista della spesa che non lo spartitraffico incriminato. Sentito? Il sindaco affianca i suoi cittadini a cui abbiamo dato voce. C'è anche lui con noi, quindi la questione oggi più che mai non finisce qui ma continua.